Run like hell, run like the wind, run like the fighter as the devil walks in I hear trouble, bring it back there, burn it down baby, run like hell Bentornati amici di Obiettivo News ad una nuova puntata di 2 e 4 ruote passioni motori Una puntata un po' diversa perché oggi mio ospite in questo studio non è un pilota anche se una gara l'ha fatta tanti anni fa ma è un giornalista, uno scrittore, un amico un meglio conosciuto come la voce del rally del Piemonte abbiamo qua Matti Rotto Buongiorno, ciao e benvenuto, siamo molto contenti di averti qua oggi Cambiamo un po' la rotta di questo programma dove i miei ospiti sono sempre stati piloti delle 2 e delle 4 ruote, tu una gara l'hai fatta però nel mondo dei rally Sì, diciamo che dire che io ho corso è un po' offendere chi corre perché abbiamo fatto una gara estemporanea nel 96, ho fatto il Carmagnola con Fabio Tallini però era una gara più che altro un'occasione goliatica per poter dire beh ci ho provato anche se è uno dei ricordi più belli che ho, questo sicuramente però corrono è un'altra cosa, noi abbiamo partecipato Vabbè non corri però sei impegnato in prima persona in questo mondo che è quello del motorevent, dei rally da tantissimi anni E fa quasi 40, quasi 40, è un po' di tempo diciamo nel passato e magari sarebbe anche di pensare ad andare in pensione, non c'era il posto normale E quindi tutto è iniziato 40 anni fa, se ci vuoi raccontare come hai iniziato, da cosa hai scaturito il tutto? Allora diciamo che la passione per le auto è una propria integrazione del mio DNA perché avevo un papà che ha fatto il meccanico tutta la vita quindi non potevo non appassionarmi alle auto, alle auto da torse invece penso di esserci arrivato da solo perché a me i rally hanno sempre tratto e andavo a vederli da ragazzino fino a quando poi ho avuto la patente e quindi ci andavo in maniera autonoma e piano piano con la passione per le radio nel senso che nel metà degli anni 70 era l'epoca in cui iniziavano a nascere quelle che chiamavano radio libere, non le radio private e anche a Venaria, che è il paese dove sono nato e dove abito, non si è sottratta a questa eventualità, c'era una radio a Venaria e anche se giovanissimo a me piaceva ho cominciato a collaborare con questa radio e poi col tempo sono riuscito ad unire la passione per la radio e naturalmente la passione per i rally facendo dei servizi e dopo invece nel 1987 anche lì quasi per caso mi è stata data la possibilità di fare lo speaker alla rally di Carmagnola ed è iniziata quella che adesso è diventata non la chiamo carriera perché la carriera la fanno i professionisti, io non mi sono mai ritenuto un professionista ho sempre fatto quello che faccio per passione, quindi siamo qua per una passione lunga 40 anni quindi in questi 40 anni hai visto evolversi quello che è il mondo dei rally quelle che sono le vetture che per forza di cose con la tecnologia si sono evolute e magari hai visto anche passare tanti piloti passando magari i padri arrivando poi i figli questa è una delle cose belle, hai ragione Eliana perché ad oggi mi trovo a vedere i figli con il papà magari a bordo per l'ana con il papà che con il gino dell'ana non ci sono che lui ma io sono sicuro che se ci fosse sarebbe orgoglioso il suo figliolo perché Luca è stato davvero bene, è uno dei giovani più promettenti della nostra zona e sì tanti piloti che sono diventati nel tempo anche grandi amici quindi è un ambiente che ogni tanto devo essere sincero più vado avanti e più mi rendo conto che mi sarebbe dole di pensare a lasciare a qualcun altro la mia grossa paura è il fatto poi di sentire la mancanza perché questa è stata davvero una delle parti importanti della mia vita certo poi essendo una passione, una passione non è che passa col passare dell'età è una cosa che hai dentro di te e non passerà mai come dicevi di Luca tanti giovani promettenti, il nostro Piemonte e la nostra zona ma anche le regioni vicine a noi hanno tanti giovani promettenti da Davide Porta a Luca Bellan a Andrea Boatti se penso alla Lombardia come si potrebbe aiutare loro come può anche magari la federazione riuscire ad andare incontro a questi ragazzi che effettivamente oltre alla passione hanno anche il talento eh sì questo è un discorso che se iniziassimo a farlo comunque nemmo prenderci del tempo perché è un discorso lunghissimo i giovani è vero vanno aiutati e vanno aiutati non insegnando loro che è importante avere il casco disegnato, la livrea sulla macchina e una bella tuta vanno aiutati insegnando loro la vera filosofia che c'era magari una volta questa è un po' colpa nostra anche, che forse non siamo riusciti a trasmettere ai giovani quella che era la filosofia di Erani una volta anche se devo dire che loro ci mettono dell'oro nel senso che come ti ho detto prima abbiamo dei giovani promettenti anche per il fatto di nomi sono assolutamente autorevoli dico che troppe volte c'è immagine e poca competenza, questo sì però è il segno degli tempi che cambiano, noi eravamo abituati a quello, adesso non è più così, non è arrivarsi però le soddisfazioni non mancano, è sotto rispetto all'aspetto dei giochi è un buon aspetto e il Piemonte su queste cose ha, come hai detto, una buona reputazione ecco perché i nostri giovani crescono bene e qualcuno si è fatto vedere anche un livello di colore sì è ottimo questo qual è la differenza tra il mondo delle corse di una volta a quello attuale? lo vediamo poi anche nei rally attuali tra il rally storico e il rally moderno e c'è una grossa differenza, ma come dicevo prima perché sono andate a differenza la cultura la cultura dei rally una volta noi andavamo a vedere i rally, ma i rally li andavamo a vedere una settimana prima perché sapevi che alla sera se non dovevi niente da fare e se avevi da fare trovavi il modo di farlo andavi sulle prove speciali a vedere e provare e le salate finivano quasi sempre o in una birreria o nel ristorante perché era così con i piloti che provavano, c'era la gente che faceva un passaggio e poi ci andavano a bere a mangiare e c'era forse più aggregazione adesso c'è un modo diverso di approcciarsi ai rally ma come dicevo, come detto di volte, c'è un modo diverso di approcciarsi anche al mondo di ci circonda quindi direi che è cambiato tutto ma i rally si sono risultati uguali una volta c'era forse più una passione un pochino più tenuina adesso si cerca a tutti i costi la professionalità a discapito tue volte quella passione schietta germina che c'era una volta non può essere provocato anche comunque dell'aumento dei costi effettivi quindi magari la ricerca smisurata di tanti piloti che a tutti i costi cercano sponsor ovviamente per poter correre magari esternalizzando troppo e perdendo quella che è la vera essenza si è vero è vero è aumentato tutto i costi allora correre dei rally è uno sporco sporco e questo è l'ottimità sempre in questo momento in modo particolare perché stiamo vivendo un momento economico disastroso e i rally non si sottraggono a quello è chiaro che con l'aumento dei costi cambiano anche le esigenze e le possibilità è indicato tutto però bisogna adeguarsi il mondo è questo il mondo anzi dopo Covid è il mondo si certo come dicevi tu magari una volta c'era più aggregazione si andavano anche a vedere le prove diciamo notturna comunque quando provavano mi ricordo io da piccolina che mi fa mi portava appunto a delle sere che non erano sere di gara adesso tutto questo non si può più fare anche per quello che faccia nel discorso della sicurezza si intanto si corre avanti di notte ed era un'andosfera molto speciale io adesso recentemente abbiamo collaborato con il Re del Grappolo che sia nella parte moderna che nella parte storica ha proposto almeno una prova di notte e si è vista la differenza si è vista la differenza di tanta gente che non aveva tanti giovani che non avevano mai visto i rally di notte hanno detto questo è bellissimo un'altra cosa purtroppo per una sicurezza che io ritengo anche indistruttibile perché comunque di notte c'è in giro meno gente e quelli che sono in giro sono quasi tutti in giro per vedere un rally di giorno invece trovi la famiglia trovi giustamente chi del Re del Grappolo non ne frega niente e il giro per i cavoli suoi e ti dai fastidio di notte si può davvero un'altra cosa anche a livello di sicurezza si è scelto diversamente sai come si dice non capisco ma mi adego il concetto è questo certo e rispetto sempre al discorso della sicurezza le macchine si sono evolute tanto quindi sono sempre più performanti sempre più leggere tra virgolette cosa si può fare per effettivamente dare una sicurezza una maggiore sicurezza agli equipaggi la consapevolezza di essere su una macchina da corsa che tanti si dimenticano che rispetto ad una volta è vero la sicurezza è aumentata tanto se pensiamo che una Lanciarelli 037 era un buon vitro tubolare con una carrozzeria di vetro resina era oggi abbiamo delle vetture più sicure ma chiaramente molto più performanti molto più veloci una percorrenza in curva che è pazzesca a volte e quindi aumenta tutto con l'aumentare della potenza e della performance secondo me si è fatto abbastanza sulla macchina da corsa la mentalità che deve cambiare è forse a volte chi va a vedere un rally e crede di aver capito tutto perché lui vent'anni fa andava a vedere i rally ed è una cosa che non invidio i commerciali di percorso e a chi ha detto la sicurezza perché tante volte si trova in distruttore della gente che dice no io qua mi metto qui io ogni tanto facendo il mio lavoro ho a che fare con i fotografi che chiaramente per fare la foto bella per fare un lavoro professionale hanno bisogno di posti particolari bisogna pensare che ogni tanto è importante portare a casa la pelle e portare a casa la responsabilità di chi è lì a fare sicurezza piuttosto che una foto bella ogni tanto si fa fatica sì anche perché pensando anche agli organizzatori hanno una responsabilità sia a livello penale che comunque a livello organizzativo molto importante e secondo le responsabilità che negli anni sono aumentate con il prego chiaro lo vediamo nel mondo del lavoro e quindi a maggior ragione anche nel mondo dello sport si è trasformato tutto le leggi, i regolamenti, le costille devi stare a livello burocratico è aumentato l'amore di lavoro è aumentato tanto poi in canavese noi abbiamo il nostro rally che è il rally delle ronde che quest'anno ha dato ha fatto vedere anche a chi non aveva mai visto chi aveva mai avuto l'opportunità di correre sulla neve beh io penso che sia stata una delle edizioni della ronde canavese più difficili come gestione e a questo proposito io devo fare davvero i complimenti all'organizzazione anche se faccio parte però chi ha gestito quella parte lì dall'organizzazione alla direzione gara devo dire che ha lavorato molto molto bene e in condizioni ad un certo punto anche di proibibile perché ad un certo punto secondo me c'erano i presupposti per dire a tutti quindi arrivederci e andiamo a casa e invece con professionalità con impegno anche con una buona dose di testandagine abbiamo portato la gara al fondo annullando soltanto una prova ma perché in quel momento era importante rendere la prova sicura e quindi bisognava perdere un po' di tempo però la gara è stata bella lo stesso anche se poi alla fine sono arrivate soltanto le 5-6 macchine però l'abbiamo portato a tutti i temerari sono arrivati al fondo assolutamente e qualcuno si è anche divertito cioè immagino tra tutti i reliche ci sono qual è quello che ti piace di più e quello a cui sei più affezionato? questa è una domanda difficile Diana perché sai come ti ho detto prima questo per me non è un lavoro non l'ho mai stato l'ho sempre fatto per passione io sono molto legato al canavese ma perché diciamo che qualcuno dirà è il tuo ego no a me piace essere ben voluto e ritengo che in canavese questa caratteristica l'ho ritrovata ho tanti amici anche in Valle d'Aosta io sono riduce dal Valle d'Aosta e credimi io un arrivo come quello del Valle d'Aosta dell'Occosso anno ma soprattutto di quest'anno non l'ho mai visto in 40 anni di lavoro lì c'è la passione tanti anche equipaggi valdostani 57 equipaggi valdostani su 158 partenti in una gara di Coppa del Valle d'Aosta e loro mi hanno detto che quest'anno l'ACI ha prodotto 40 nuove ricenze proprio in occasione del Valle d'Aosta sono legato al Carmagnola anche se non si fa più ma perché è stata la mia prima gara da speaker e la mia prima e unica gara da pilota sono legato al città di Torino perché è la gara della mia città come ti ho detto l'avvento canarese ha un sapore particolare il Valle d'Aosta c'è un affetto smisurato che dire, tante, sono tante non saprei scegliere quella che mi attrae di più sono tutte gare che faccio ancora con un contatto migliore nel corso di tutti questi anni poi hai preso parte nell'ambiente della beneficenza che è un aspetto molto importante che è appunto a sostegno dei bimbi quindi a sostegno di coloro che hanno bisogno di aiuto quella è una parte che mi coinvolge in modo particolare aiutare questi bambini è importante ma credo che ti accresca il tuo bagaglio perché ti rendi conto che tu stai facendo uno sport e fai una cosa per regalare anche solo un sorriso a questi bimbi e se ci sei riuscito hai già fatto il tuo lavoro noi adesso il primo di ottobre saremo a Moncaldieri con campioni per un giorno che per motivi di covid abbiamo dovuto interrompere ma non ci siamo di nuovo e collaboriamo in modo particolare con il reparto di pediatria della luce di E che credimi è un reparto fantastico con gente fantastica siamo stati più volte a visitare il reparto ed è il reparto a misura di tipo ecco tu entri dentro e ti accorgi che sei a casa loro a casa dei bambini e le manifestazioni sono invece come ti dicevo un qualcosa che ti devasta a livello mentale perché vedere questi bambini è qualcosa che non riesci a spiegare dove devi vivere e poi al mese di ottobre saranno invece in canale per una manifestazione che si chiama allo stesso modo perché è un giorno da campioni e anche lì dedicata a questi bimbi che salgono su queste macchine e gli metti il casco perché li fai sentire davvero partecipi di questa cosa gli hai regalato un sorriso e a chi ci viene a trovare invece la possibilità di aiutarci perché oltre al sorriso è importante dare una mano a chi cura questi bimbi per trovare il modo e le apprezzature per andare avanti perché questa cosa non si deve fermare da dire avanti il giorno da campioni hai anche regato a casa Ugi quindi ha il supporto che viene dato proprio ai genitori tipo questi bambini sì, sì, sì e difatti parlando della manifestazione di questo scorso con casa Ugi c'è un bel rapporto loro sono presenti con Celiai devo dire che il rapporto è forse essendo un'entità un pochino più piccola che più stretto noi una volta all'anno veniamo chiamati e ci illustrano centesimo per centesimo tutto quello che fanno con i soldi che ricevono e ti devo dire che ripeto entrare in quel reparto è qualcosa di emozionante che ti appaga degli sforzi che poi non sono neanche sforzi del sacrificio che non è un sacrificio perché lo fai volentieri tutto quello che fai per vedere questi bimbi sì, che magari è una cosa che mi è rimasta impressa l'anno dopo ti vengono a cercare ti salutano e dicono ti ricordi di me sì certo è una cosa cioè è una bella cosa non ti rispondo di parlare di queste cose in emozione lo capisco tornando a parlare di giovani abbiamo parlato dei giovani piloti invece i giovani che vogliono vorrebbero fare questo mestiere facciamo dall'altra parte guarda l'ho scritto anche nel libro che ho fatto a me e sempre di più in questo periodo viene in mente che forse è arrivato il momento di fare un passo indietro perché penso che fino a quando quelli come noi di una certa età non faranno questo passo non ci sarà nessun giovane che invece può proporsi e fare il percorso che abbiamo fatto noi da una parte la mia grande paura è sentire poi la mancanza di questo ambiente perché ha significato la mia vita ha significato la mia grande passione ha significato quella cosa a cui ho dedicato gran parte del tempo libero dall'altra parte mi piacerebbe ma devo essere sincero mi piacerebbe trovare un giovane che la pensasse un po' come me nel senso che per fare questo mestiere intanto non devi cercare di non farlo diventare un mestiere devi farlo sempre con passione con passione perché altrimenti è un problema e poi il sacrificio svegliarti presto, fare dei chilometri saper metterti a disposizione di chi lavora per i rally ma la passione la passione è quella che è la cosa che ti fa fare un sacco di cose oggi io ho un paio di colleghi giornalisti giovanissimi tra l'altro uno del canavese che ritengo sia sulla strada buona per far strada in questo ambiente troppe volte e io mi arrabbio difatti mi chiamano quasi papà perché io mi arrabbio perché quando vedo che non sono così pronti, così attenti, così concentrati su un obiettivo che non deve essere il grande pilota perché a tutti, io dico sempre a tutti, fa piacere intervistare Loeb perché Loeb è un personaggio a livello mondiale certo molto probabilmente Loeb non leggerà la tua intervista perché ne ha talmente tante se tu intervisti invece il Mario Rossi intanto non vedrà l'ora che la tua intervista esca in edicola e poi la farà comprare il giornale alla mamma, al papà, alla fidanzata, al cugino, a tutti i parenti e a tutto il vicinato e questo vuol dire, vuol dire anche per il giornale su cui scrivi questa è un po' la mia filosofia poi ripeto, a tutti fa piacere a livello professionale intervistare il vostro personaggio se vuoi cominciare e vuoi fare della strada è la base è la base quella che ti aiuta perché la base è quella che è come quando sei in pedano io ho il vizio e ho sempre avuto di aspettare tutti in pedano facendo del sacrificio perché credimi quando sei arrivato a 60 anni far passare 160 macchine all'arrivo dopo che ti sei sciroppato tutta la gara comincia a diventare un po' pesante però lo devi fare è giusto anche l'ultimo deve avere lo spazio gatto e poi, molto brevemente, chi parte con il numero 160 per fare quella gara ha fatto un sacco di sacrifici magari non ha portato la fidanzata a mangiare una pizza ha fatto davvero tanto poi riuscirà ad arrivare lì ed è giusto regalargli anche quel momento di chiamiamola celebrità io mi accorgo che tante volte sono proprio questi quelli che ti danno che lo apprezzano e ti danno più soddisfazione certo grazie di essere stato un'ospite grazie a voi grazie della chiacchierata torna a provarci quando vuoi volentieri grazie noi amici di Obiettivo News vi salutiamo vi diamo appuntamento ad una prossima puntata di 2-4 ruote a questioni motori mi raccomando continuate a seguirci su Obiettivo News su NTV web e su tutti i nostri canali social alla prossima